Seconda parte della nostra rassegna, stiamo parlando di nazionale italiana con la vittoria faticosa contro la Macedonia. Ne ha parlato ovviamente il commissario tecnico Ventura, noi andiamo ad analizzare le sue parole attraverso il Corriere dello Sport.it. Ventura, Italia in costruzione, ha parlato anche Immobile, mi sento importante nella intervista flash della Rai a fine partita. Il Citi Azzurro ha detto purtroppo abbiamo ancora dei passaggi a vuoto ma sono inevitabili, siamo giovani, il match winner della sfida contro la Macedonia invece, ovvero Citi Immobile ha detto siamo più cattivi e abbiamo carattere. Io in questa nazionale sento la fiducia di tutto l'ambiente, ha parlato anche Belotti al gol all'esordio, dobbiamo migliorare un po' il nostro modo di giocare. Il 90% dei nostri errori di stasera è dovuto ad inesperienza e superficialità, quando ci sono tanti giovani in campo dobbiamo avere pazienza e purtroppo i passaggi a vuoto in quei minuti della rimonta nella Macedonia fanno parte proprio di questo processo di crescita. Per fortuna nel finale c'è stata una grande risposta sul piano caratteriale, così il commissario tecnico Azzurro Giampiero Ventura che analizza la sofferta vittoria in cate della Macedonia ai microfoni di Rai Sport. Per dieci minuti non eravamo più una squadra, poi c'è stato il ritorno dell'Italia che conosciamo che è riuscita a prendersi questa vittoria. Siamo una squadra in costruzione e dobbiamo pazientare. Immobile ha detto Ventura, tutti hanno cercato di fare cose buone, non solo lui. Dobbiamo ripartire dal finale di questa sfida, ha concluso il commissario tecnico Azzurro. Immobile ha confermato, mi sento importante. Purtroppo nel secondo tempo siamo stati troppo molli, una volta subito il pari non siamo riusciti a reagire e poi abbiamo subito lo svantaggio, solo allora ci siamo ripresi. In campo europeo non puoi sbagliare nulla se non ti mangiano, dobbiamo essere più cattivi e poi ha detto questa è una vittoria importante, ha dimostrato che questa Italia ha carattere. Abbiamo avuto un'ottima reazione con la Spagna e stasera abbiamo disputato un ottimo primo tempo. Da queste cose dobbiamo ripartire per crescere ancora. Anche Belotti è d'accordo, dobbiamo migliorare, contento del mio esordio da primo minuto, sono riuscito anche a fare gol. C'è da analizzare tanto questa partita, abbiamo sofferto fino all'ultimo e per fortuna l'abbiamo vinta. Verratti ha parlato con grande onestà del suo errore, chiaramente ammettendo di aver inciso in modo evidente nell'azione del pareggio. Anche Buffon ha chiarito il concetto, premiati con il cuore, contro la Macedonia abbiamo concesso troppe palle gol, alla fine abbiamo portato a casa tre punti mettendoci l'anima e il cuore. Noi di questi tempi siamo premiati anche oltre la misura, ma vuol dire che lo meritiamo, ha detto il capitano Gianluigi Buffon, che non ha certamente vissuto due serate da non dimenticare con la nazionale italiana dopo l'errore contro la Spagna. Anche due gol contro la Macedonia non è qualcosa che Buffon è abituato a vivere ogni giornata di calcio. Una giornata di calcio importante per la Spagna che ha vinto per 0-2 come vediamo contro l'Albania, una partita fondamentale per i giornali dell'Italia. Nel gruppo G adesso la Roja vola al comando, proprio insieme agli azzurri. La selezione di De Biasi resiste per un tempo, poi gli errori di Beriscia aprono la strada all'attaccante del Chelsea, Diego Costa che riceve una palla facilissima per il tapin, infine Nolito realizza la rete del 2-0. La Spagna quindi vince contro l'Albania, la rete di Diego Costa e Nolito dopo una lunga fase in cui la banda De Biasi, anche se molto bassa, riesce a dar filo da torcere ai plurititolati. Ramos-K.O. in questa partita, brutto, infortuna nel finale, il difensore del Real si ferma per un problema al ginocchio sinistro ed è costretto a lasciare il campo all'ottantesimo. Cade male, dopo un salto si porta subito la mano al ginocchio, seguiranno esami. Ed è stata questa una due giorni davvero complicata per ciò che concerne gli infortuni in nazionale. Perché appunto, come abbiamo detto in apertura, si sono infortunati Montolivo e Milik e la Gazzetta e lo Sport ne fa un'analisi più approfondita. La FIFA generalmente rimborsa questi infortuni ma solo per gli stop di oltre un mese. Quindi in questo caso Montolivo e Milik rientrano nella statistica. Al Milan dovrebbero andare circa 1,9 milioni di euro, a Napoli 1,5, ma gli altri invece non potranno farci nulla. Una lunga fase di statistica. Nei casi rientrano anche Giordi Alba, Sillessen, Sergi Roberto, Neymar, tanti giocatori che sono infortunati. Ma la franchigia riguarda appunto questa linea di confine solo per i stop di oltre un mese. Purtroppo alcuni giocatori e anche alcuni tifosi avrebbero fatto a meno di sapere che il club otterrà questi indennizi. Ad esempio in Milan con Montolivo e Napoli con Milik. Napoli che lo perde. Una rottura del crociato. Sono arrivati anche gli auguri di Maradona. L'attaccante purtroppo si è infortunato contro la Danimarca con la sua Polonia. operato a Villa Stuart, come abbiamo detto, da Mariani. E ha incontrato anche il Pibede dopo il grave infortunio. L'attaccante Arcadius Dominic è rientrato nel pomeriggio in Italia leggermente zoppicante, volto tirato a Fiumicino. Subito dopo lo sbarco i centravanti ha ricevuto l'affetto di diversi connazionali e anche tanti tifosi napoletani. Ha trovato anche in albergo Diego Armando Maradona che mercoledì giocherà la partita per la pace allo stadio olimpico. Maradona ha portato con Milic per un selfie e ha augurato al giocatore di rimettersi al più presto possibile. Questo è lo scatto invece con cui su Twitter il Napoli ufficializza appunto il passaggio verso l'operazione. Vediamo nella foto il professor Maiani, De Laurentiis, appunto Milic e il medico De Nicola del Napoli. Uno scatto per lo sfortunato Milic che naturalmente tornerà velocemente, almeno secondo quelle che sono le statistiche di cui abbiamo parlato poc'anzi. Maradona, Maradona dicevamo, Maradona è in Italia perché parteciperà alla partita della pace voluta dal Papa. Il campione azzurro è tornato anche su il caso Higuain. Ai miei tempi non sarebbe capitato, ovvero il passaggio dal Napoli alla Juventus. Agnelli mi corteggiava come una donna, ma gli dissi di no. Parola di Diego Armando Maradona. Mi è dispiaciuto, continua, che Gonzalo sia andato in una rivale diretta come la Juve, dice Maradona, ma non si può neanche dare la colpa solo a lui. Il giocatore ha le sue responsabilità e forse ai miei tempi non sarebbe capitato, ma i colpevoli sono sempre quelli che fanno gli affari. Il campione del Napoli ricorda quando Agnelli mi corteggiava come potrebbe fare un innamorato con una donna. Mi chiamava continuamente permettendo cifre pazzesche e mi disse che aveva offerto 100 miliardi a Ferlaino e di mettere io la cifra sul mio assegno. Io risposse che non avrei mai potuto fare questo affronto ai napoletani perché io mi sentivo uno di loro e che non avrei mai potuto indossare in Italia un'altra maglia se non quella del Napoli. Una grande dimostrazione di amore per il Napoli anche il rapporto per l'Italia è molto intenso ma non è solo amore, dice Maradona. Non sarà la finanza a mettersi tra me e l'affetto perché in questo caso, a parte i problemi fiscali e legali c'è appunto solo amore, specie con i napoletani. È impossibile che questo venga cancellato, non ci riuscirà nessuno. Non sto facendo la vittima, voglio solo combattere per la verità che qualcuno sta nascondendo ha detto Diego Armando Maradona. In Napoli quindi dovrà fare a meno di Milik che si opera in questa giornata a ginocchio sinistro da ricostruire rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Anche l'Ajax, l'ex squadra fa gli auguri di pronta guarigione al suo ex attaccante. Conferma anche il già citato professor Mariani, il crociato è rotto ma su di lui c'è una totale, assoluta fiducia da parte di tutto il mondo del calcio. Ne parlavamo appunto poc'anzi dai tempi in cui rimise in piedi Francesco Totti in tempi record nel 2006 per riportarlo da febbraio addirittura a maggio in campo per poi fargli vincere la Coppa del Mondo. Ad Insigne, vedete in queste foto con i famosi precedenti come anche ad esempio Lucarelli Insigne venne rimesso in piedi a tempo di record. Un altro caso, Zalaieta che tornò rapidamente a giocare anche maggio, in realtà per lui fu una stagione finita. Lucarelli, però detto, ritornò in campo il 18 gennaio 2011 dopo essersi rotto il legamento a settembre del 2010 quindi tempi relativamente brevi le speranze sono quindi per i tifosi napoletani che Minic possa tornare brevemente a giocare ci si guarda però intorno e addirittura spunta una possibilità quella di accapararsi Miro-Close naturalmente però noi ne parleremo subito dopo un breve momento di pausa tra poco.